Ciao a tutti, bentornati sul canale, oggi torniamo a parlare come vedete all'immagine alle mie spalle di chat GPT perché ci sono delle interessanti informazioni e delle novità che voglio fornirvi vi preannuncio che il video di oggi sarà abbastanza breve, però spero molto interessante per cui se non l'avete già fatto vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale l'iscrizione ovviamente è gratuita, non ci guadagno nulla, per me è soltanto un divertimento e un piacere ma andiamo subito alle novità perché proprio ieri ho ricevuto questa bellissima email con oggetto Welcome Back Italy da OpenAI in cui mi scrive OpenAI e mi dice che come potete leggere sono ben felici di ricordarmi, di dirmi che chat GPT è di nuovo disponibile in Italia in più io ero abbonato alla versione Plus di chat GPT per cui non avendo potuto teoricamente fluirne in realtà come sapete tramite la VPN ho potuto continuare a utilizzare GPT però comunque in ogni caso sono consapevoli di questo, chiamiamolo, disservizio causato da una loro negligenza perché in fondo era causato da una loro negligenza e quindi mi offrono, mi danno, mi regalano penso l'avranno fatto tutti quelli che avevano un abbonamento Plus un mese gratuito di abbonamento benissimo lasciatemi dire che posso dire che ve l'avevo detto sì, in effetti l'avevo previsto cioè nel momento in cui il garante ha bloccato chat GPT probabilmente non c'era da allarmarsi troppo perché OpenAI ha fatto abbastanza in fretta a mettersi in regola e cosa ha fatto per mettersi in regola? OpenAI, lo leggiamo da questo sito 0.1.net bene, innanzitutto è stata data la possibilità a tutti gli utenti di far cancellare le informazioni ritenute errate è stato dato il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per l'addestramento dell'algoritmo è stato appunto data soprattutto la possibilità di dichiarare l'età agli utenti e in questo modo bisognerà dichiarare ora di essere maggiorenni oltre a 13 anni e infine è stata inserita una schiera di registrazione al servizio che prevede anche la richiesta della data di nascita prevedendo un blocco alla registrazione per gli utenti che hanno meno di 13 anni queste in sintesi sono le principali novità ritorniamo quindi sulla nostra pagina di chat GPT che come vedete è accessibile non sono collegata alla VPN oggi clicco come al solito su chat GPT e compare ora questa finestra Welcome Back Italy che sostanzialmente è quello che è l'informazione che ho già ricevuto via email in cui giustamente mi viene chiesto di aderire al trattamento dei dati personali leggere politiche sulla privacy leggere un po' di cose insomma una volta che avrò cliccato su questo tasto verde sarò a posto ecco qua ora io ho la versione plus perché come vi dicevo mi hanno regalato un mese gratuito e come è inutile che ve lo faccia rivedere il funzionamento perché ovviamente qui c'è tutto ciao bentornata ok grazie sono sempre qui per aiutare in che modo posso esserti utile oggi e così via potremmo continuare il funzionamento già lo conosciamo e così questa è la prima novità del giorno chat GPT è finalmente accessibile in Italia senza VPN senza stratagemmi e senza adottare sistemi alternativi quindi possiamo utilizzare tranquillamente oggi chat GPT anche in Italia direi finalmente l'altra informazione che invece volevo darvi è questa si legge su molti siti ad esempio l'ho letta io su punto informatico ma è una notizia che viene riportata anche da altri siti e c'è in effetti un progetto alternativo uno dei tanti direi perché non è l'unico tramite cui si è riusciti l'autore è riuscito a realizzare una versione gratuita di chat GPT che utilizza fra l'altro anche l'ultimo algoritmo GPT 4 non so fino a che punto questa cosa sia effettivamente lecita perché non ho ben capito su cosa si base questo meccanismo in ogni caso vi lascerò il link a questo articolo di punto informatico sul quale potete leggere anche ulteriori dettagli e da punto informatico potrete raggiungere anche questa pagina di test come potete vedere si apre questa interfaccia che è del tutto simile a beh non del tutto ma diciamo che è molto simile a quella di chat GPT abbiamo la possibilità di scegliere tra la versione qui vedete in basso GPT 3.5 Turbo quindi che è già la versione disponibile soltanto a chi ha l'abbonamento di GPT o anche la 4 vediamo per esempio posso chiedere una domanda ciao che versione di GPT sto utilizzando ciao al momento la mia versione è GPT 3 la più avanzata tra le versioni di GPT come vedete è molto veloce sembra che sia in effetti la versione Turbo 3.5 provo a fare la solita domanda forniscimi l'outline di un libro dedicato ai bitcoin domanda standard che faccio per verificare il funzionamento di GPT ed ecco qua sta rispondendo questa è la versione 3.5 per cui è molto veloce ed ecco qui l'outline scrive molto rapidamente sembra tra l'altro dai miei pochi tentativi mi è sembrato di capire che non ci siano neanche dei limiti su questa su questa macchina non lo so devo verificare meglio proviamo ad utilizzare la GPT 4 proviamo a fargli una domanda più complicata scrivi una poesia la GPT 4 come sapete è una versione più creativa dedicata al diciamo al primo maggio visto che siamo in tema in stile leopardiano andiamo in stile Giacomo Leopardi per capirci meglio vediamo che fa ed ecco qua la nostra poesia non so quanto sia efficace lo stile probabilmente i poeti i veri poeti qui storceranno il naso però è quello che sta facendo e devo dire che per se effettivamente questa è la versione 4 è anche molto molto rapida più rapida probabilmente di quella che abbiamo su OpenAI continuiamo a dare uno sguardo a questa interfaccia va bene qui c'è GPT 4 GPT 3.5 ve l'ho fatto già vedere qui con questi pallini possiamo cambiare il colore va bene è soltanto una cosa di visualizzazione invece qui si possono scegliere i modelli che utilizza ci sono diversi modelli ecco questo Evil è un po' inquietante non so ho quasi paura a provarlo beh lo lascio provare a voi e poi c'è anche questa opzione web access per cui credo che muovendo questa levetta posso anche avere qualcosa in più rispetto a GPT ovvero l'accesso al web vediamo se funziona prima di fargli una domanda che richiede la navigazione su internet e vediamo se risponde ad esempio visto che ieri si è giocata questa partita di calcio Lecce Odinese terminata sull'1 a 0 per il Lecce proviamo a chiedere quindi se proviamo a chiedere qualcosa di questa partita ad esempio puoi dirmi come è finita la partita di calcio Lecce Udinese che è stata giocata ieri 28 aprile 2023 ok qui dice che mi dispiace non posso fornirti informazioni attendibili sui risultati della partita di calcio la data data è fornita infatti futura rispetto all'attuale data di conoscenza degli A che è ferma a settembre 2021 questo sembra abbastanza in linea con ciò che fa anche GPT perché non ha accesso al web ok ho messo in pausa la registrazione perché ho voluto fare altre prove per vedere anche attivando e disattivando questa levetta se effettivamente avesse l'accesso al web così ho provato a chiedergli di di nuovo la stessa domanda della partita di calcio ma si è impallato praticamente non non risponde forse sta cercando non lo so poi ho provato a chiedergli altre cose ad esempio gli ho fornito un link di un video che riguardava sempre la stessa partita mi ha risposto che come assistente virtuale non ha la capacità di accedere ai siti web e collegamenti esterni però mi può dire che il link sembra riferirsi agli aleazzi della partita di calcio leccio di nese terminata con il risultato di 1 a 0 a favore del leccio il video mostra una sintesi dei momenti salienti della partita con immagini dei gol e delle azioni più significative e io credo che possa evingere tutto questo semplicemente dall'indirizzo per cui nulla di particolarmente sconvolgente dopo di che gli ho chiesto anche di farmi una sintesi di un articolo e gli ho dato l'indirizzo su web e di nuovo si è si è bloccato per cui non posso essere non posso dire che questa funzionalità dell'accesso al web funzioni in questo momento almeno sembra non funzionare per finire l'ultima cosa interessante è che come su GPT qui vedo che c'è una cronologia delle conversazioni precedenti non so che cosa succede se esco e rientro vediamo che cosa succede proviamo a uscire dalla pagina e a rientrarci beh diciamo che provo semplicemente a chiudere la pagina e dopo di che inserisco di nuovo e si effettivamente tiene anche traccia delle delle conversazioni precedenti non ho dovuto fare l'accesso a a discord né a guitar niente non mi sono neanche registrato però effettivamente sembra che tenga traccia delle delle conversazioni precedenti per cui sì è uno strumento che al momento sembra funzionare bene come vi avevo pronunciato il video di oggi è stato abbastanza breve spero per voi utile e interessante prima di chiudere come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in maniera tale da essere aggiornati ogni volta che caricherò un nuovo contenuto come questo ciao e al prossimo video